Detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti con questa accusa un ventenne residente sul territorio comunale di Sulmone è stato denunciato all'autorità giudiziaria dei carabinieri della locale compagnia che vanno avanti con lo scacco allo spaccio. I militari nelle scorse settimane nell'ambito dei controlli antidroga avevano sequestrato 80 grammi di eroina in un casolare di campagna che si trova nella periferia della città, un sequestro che era scattato inizialmente a carico di ignoti. Le successive indagini hanno permesso ai carabinieri di dare un volto e un nome al proprietario della sostanza, un giovanissimo di circa 20 anni che è finito sul registro delle indagate e resterò deferito per spaccio. Non si escludono ulteriori sviluppi anche a breve. Negli ultimi sette mesi da ottobre 2023 a maggio 2024 i militari hanno sequestrato circa 600 grammi di sostanze stupefacenti pronte allo spaccio, nello specifico 273 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 261 grammi di hashish e 18 grammi di cannabis. Complessivamente sono state sette le persone arrestate, tutte in flagranza di reato, 16 quelle denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria. I carabinieri quindi presentano il conto.